amici bentornati sul canale 9000 g di elaborazione autosportive come abbiamo già fatto altre volte riprendiamo ogni tanto alcuni aspetti alcune caratteristiche di quel video famoso che abbiamo fatto sulle macchine elettiche che ha fatto veramente tanto scalpore siamo arrivati quasi a 400.000 visualizzazioni con 5.000 nuovi scambi criti quindi un video veramente eccezionale che ha avuto diciamo tanta gente che concordava sul mio pensiero e alcuni detrattori ma ci sta perché ovviamente non possiamo pensare di convincere tutti quello che ogni tanto cerchiamo di fare è condensare quelle che sono le domande che ci vengono poste perché abbiamo guardato ci sono arrivate più di 9000 domande e a volte ne concentriamo noi rispondiamo sempre sul sul sito a coloro che ci scrivono però ogni tanto condensiamo le domande più più interessanti magari facciamo un video in maniera tale da dare una risposta in maniera un pochino più ampia in maniera un pochino più esaustiva che non scrivere tre righe di risposta a questo cliente una delle domande che spesso mi sono state poste recentemente era dal mio punto di vista secondo me quale soluzione poteva essere nella migliore nel senso parlando dell'elettrico con critiche o pregi dell'elettrico quale secondo me poteva essere diciamo la la soluzione migliore per attraversare questo periodo di transizione ecologica e arrivare a una soluzione che che fosse ottimale io devo dire che è onestamente come l'ho già ripetuto tante volte la soluzione una soluzione univoca secondo me non c'è cioè qualunque tipo di scelta è in funzione delle esigenze personali di ciascuno di noi cioè perché adesso ci sono coloro che utilizzano le macchine diesel macchine benzina macchine bifuel macchine lette che per quel poco che ci sono perché ognuno ha delle esigenze particolari quindi non si può pensare di avere con un'unica soluzione accontentare tutti coloro che ci sono per via la signora che va a fare la spesa e fa cinque mila duemila chilometri all'anno e vive solo nell'arco della città in quel caso una macchina elettrica magari anche di dimensioni piccoline è il non plus ultra non fa una grinza per coloro che viceversa fanno un pochino più di chilometri e ovviamente non si limitano solo alla città magari soluzioni differenti che possono essere il benzina o per chilometraggi molto superiori il diesel rimane ancora a livello di efficienza termodinamica imbattibile io posso fare una una considerazione basata su una mia esperienza nel senso che ho recentemente acquistato per mia moglie una una macchina ibrida particolare perché una cash kai che viene alimentata a un motore benzina di derivazione infiniti che alimenta a sua volta un una batteria elettrica per cui la macchina sarebbe elettrica non ha la spina quindi una delle cose una delle prerogative che assolutamente mi sono rifiutato era quello di prendere una macchina full elettrica perché a volte noi abbiamo una una casa in puglia per cui abitando a milano abbiamo una casa in puglia ci capita di andare in vacanze in puglia e andare in puglia significa farsi 950 chilometri andare 950 chilometri a tornare quindi la macchina non è che gira in città ma gira costantemente in autostrada direi che dopo 15 mila chilometri perché più o meno la macchina ha fatto quel chilometraggio siamo mediamente soddisfatti nel senso che una macchina del genere usati in città è eccezionale cioè va perennemente in elettrico riesce a fare abbondantemente ben più di 20 chilometri siamo riusciti a fare anche 24 25 perché ovviamente a basse a velocità non dove il motore non viene sollecitato come richiesta di potenza si riescono a fare chilometraggi imbattibili anche il diesel più evoluto non riuscirà mai a fare chilometraggi di quel genere oltretutto alimentati a sola energia per cui non senza costo il problema è che quando si esce dalla città appunto non dico che uno deve fare per forza tutte tutte le settimane 950 chilometri ma quando ci sono delle esigenze che necessitano di fare percorrenze più lunghe in quel caso diciamo la convenienza cambia radicalmente perché abbiamo fatto un calcolo anche recentemente siamo andati tornati dalla puglia e non non si riescono a fare più di 14 e mezzo 15 chilometri 15 chilometri con con un litro di benzina ricordo che alimentata benzina quindi non va a gasolio ma benzina quindi in sostanza se uno ha delle esigenze appunto come quelle di fare un pochino più di strada e non solo usarla in città questo tipo di soluzione lo accontente in parte perché alla fine a livello economico consuma di più di un normalissimo 1500 turbodiesel che fa tranquillamente i 18 19 con un litro quindi da un puntista economico non è una necessità bisogna fare chiaramente una valutazione sull'arco di un anno e in quel caso più o meno ci si può avvicinare però non è miracolo è un come dire un'alternativa è una soluzione soprattutto dal mio punto di vista la soluzione diciamo migliore di un'auto di quel genere è il fatto di non essere vincolati alla spina perché io onestamente non sono ancora psicologicamente preparato ad avere una spina e con la paura di rimanere magari per uno perché distratto o perché ha freddo per qualunque altro cosa rimanere con la con la con la carica zero è ancora difficile da digerire per questo motivo ho scartato già a priori quel tipo di scelta però anche questo questa alternativa che trovo interessante di trovare la trovo unica nel campo delle macchine ibride ha comunque degli aspetti molto migliorabili quindi ritornando al discorso di prima secondo me il mix diciamo più opportuno sono a seconda delle esigenze delle alternative completamente diverse per cui l'elettrico va benissimo in determinate condizioni soprattutto se uno ha la fortuna perché non tutti abbiamo spiegato io tante volte mi sono scontrato con alcuni che contestavano questa mia critica all'elettrico perché come ho detto tante volte se uno ha la fortuna di avere una casa propria con il fotovoltaico e si può caricare la macchina diciamo a casa sua nel suo bel box al caldo e quant'altro è la soluzione perfetta cioè non spende praticamente nulla e su quello c'è poco da discutere rimane il problema dei lunghi chilometraggi però se uno la usa in un diciamo in un arco di due trecento chilometri veramente spende quasi niente se non avere diciamo ammortizzato l'impianto fotovoltaico ma ci sono tutti gli altri sono la stragrande maggioranza che viceversa la macchina elettrica se le devono caricare in strada quindi ripeto come ho detto tante volte a Milano colonnine ce ne sono ancora molto molto poche e tutti coloro che poveretti arrivano alla sera devono caricare la macchina non possono poi lasciarla attaccata e andare a casa a dormire devono aspettare che la macchina carichi dietro di loro c'è un altro che deve poi fare aspettare per fare la fila e caricare a sua volta finita la carica deve prendere la macchina trovare un parcheggio insomma uno che non ha un sistema proprio che si gestisce la carica a casa sua è ancora abbastanza opinabile sicuramente le escomunità sono forse un pochino più dei vantaggi però diciamo la macchina elettrica ha comunque tanti vantaggi per quanto riguarda la circolazione nei centri tipo milano roma qualunque centro urbano è imbattibile come ho detto tante volte oltre a quello comunque ci potrebbero essere delle alternative che sono ancora io ritengo il discorso del diesel ancora una validissima soluzione per tutti tutti coloro che percorrono delle lunghe percorrenze ovviamente il diesel ha ancora un mario di sviluppo notevole quindi soprattutto con l'ausilio di carburanti alternativi che già adesso in alcuni distributori vengono venduti hanno delle rese termodinamiche e degli abbattimenti del particolato dico a zero ma veramente molto molto bassi e in questo caso accontentano una fascia di utenti che viceversa avrebbero penalizzati anche solo avendo una macchina benzina perché una macchina benzina al di là del costo che più o meno diesel e benzina si sono equiparati però non c'è niente da fare una macchina benzina a livello di resa rispetto al diesel consuma di più non ci sono alternativa parità di macchine parità di cilindrata quindi concludo questo video appunto dicendo che è impossibile pensare di andare su un'unica soluzione perché un'unica soluzione sicuramente accontenta tanti ma ne scontenta tanti altri quindi l'ideale sarebbe quello di avere come viene adesso introdurre il discorso di elettrico in maniera più massiva rispetto a quello che c'è adesso però lasciare la libertà di utilizzare dei prodotti e dei mezzi e dei motori che soddisfino delle esigenze diverse a coloro che necessitano cioè un camion per dire un camionista dubito che sia molto contento se dovessero per dire cambiare il motore farlo andare o solo a benzina o in completo elettrico perché lì ci sono delle come dire delle incongruità dovute appunto al fatto che col diesel le percorrenze che un camionista fa sono assolutamente decisamente migliori da un punto di vista economico di contenimento di costi e quant'altro questo almeno è il mio pensiero direi che anche per questo aggiornamento è tutto via via che raccogliamo delle richieste, delle domande sempre relative a questo discorso perché ho visto che comunque rimane sempre di estremo interesse le concentriamo e faremo delle puntate particolari riguardo appunto sempre a questo tema per il momento è tutto, ti saluto, alla prossima!